Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo ritornati con un nuovo video. Allora, oggi sto in una nuova passazione e questo è il quinto vlogma. Allora, oggi non mi sento tanto per me, sto con influenza col volto, quindi non per l'interno sono tutta spettinata. E con questo, appunto qua c'è il comodino che mi fa da spettinare. Sto ancora con il mio video, un po' benvenuto. E appunto oggi vi farò vedere la mia colazione, la mia, sto facendo colazione, la mia collezione di slime e di comine. Allora, io vorrei partire con quella là di comine. Allora, visto che ho un cassetto, io tutte le mie comine ce le ho qua. Sono fiume. Allora, io ce ne ho una montagna perché comunque non è che sta qua o quanto c'è. Allora, io ce ne ho due, così, nel senso colore, due gialle. Cioè, dalla fotocamera si vede un giallo chiarissimo. Per ragazzi, in realtà, è un giallo bellissimo. La differenza è proprio bellissima. Così. Allora, poi c'è questa qua azzurra. Io non conosco i personaggi, quindi vabbè. Allora, poi... Perché non si levano? Poi ci sono quelle là colorate, che sono questa. Questa qua che mi è uscita da una russa, aglio ornalario, molto benvenuta. E questa qua che mi è uscita da una bustina di penne che ho comprato. È della Trotto. Cancel. Ok. Poi c'è questa qua bianca, normale. Poi c'è questa qui, di SpongeBob, con la sua armata. E poi ce ne ho due dei topini. Una da cowboy, molto bellina. E una con un topino spaziale. Allora, adesso ve le faccio vedere un attimo tutte. Ok, allora. Queste sono tutte le mie gomine e ne sono... 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12... 12 gommine. Ok, adesso vi farò vedere... Aiuto. La mia collezione di slime. Allora, alcuni slime non è che ce li ho... Cioè, non le piace tutti perché comunque a salire in sua serie, mi girano la testa. Allora, partiamo con gli squishy fatta maglia, vedrete, oh ma questo è nuovo, no, è che da quando l'ho comprato dal mio compleanno l'ho conservato qui in questa bustina con anche l'ontrino di litro. Allora, questo l'ho regalato la mia mia maglia, un bacione, e io l'ho messo in questa posizione. L'ho preso da tutti. Questo è bello. C'è dentro anche l'elamido di mais per farlo scoppiutare di più, però non è che ha raggiunto chissà di cosa. Ed appunto con i brillantini. l'altro fumo che voglio fare, cioè ad aspiro blu. Questa. Questa squisci, pasta magica, questa gem che ho comprato io. Questa. Questa. Questo è finissimo di brillantini. E appunto lo dovrei già più direttamente. Molto bello. Vi voglio far vedere come si fa il pirulè. Si, il pirulè di Instagram, allora. Propriamente ripenete il vostro slime e fate così. Tante volte. Ok, adesso lo incrociate tutto. Ed ecco qua. Molto bello. E' bella anche la scapellina che è trappente. Poi ci sono questi due che sono proprio gli schifido, 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 schifido. Che uno è il primo slime che è uscito e uno è uscito dentro le pazzine. Quindi. Cioè, questo è il classico schifido con il barile. Ed è simile al super fluffy slime che è uscito. Cremi si fa in piccolo. Non mi importa. Va bene. E' comunque uguale a quello là a cofumero. Poi c'è questo che è uscito dalle patatine che è di un materiale super resistente e fattivo. Cioè, raga, nemmeno si allunga. Ma che slime è? Guardate qui. Ok. Vabbè. Prima faceva anche le pazzette però. Vabbè. Poi c'è questo che... Ah, aspetta. C'erano due che ho preso da Trial. Questo non è la seconda funzione originale. Allora, vediamo con questo che mi hanno dato un sacco e il maglialino che ho pagato 3 euro. Pensavo che fosse uno slime. Però... Guardate qua. ... Nemmeno... ... ... ... ... ... un sacco di pezzettine vabbè adesso non vi faccio però questo questo di taglie che è la quale si c'è? ah è tipo la kinetic sand e la sabbia kinetica viola molto peggio poi c'è uno slime che ho preso dai scenici l'altro video che ho pagato 75 anni aspetta ora si è attaccato ecco così allora sembra bellissima morbidissima però all'inizio è morbida se le ha allarcate piano si allunga è morbido e appunto è un viola di tetto c'è anche uno uguale a questo solo che con le perline con le farfalline non mi piace e appunto adesso adesso ho capito perché alcuni blind costano questo poi c'è uno fatto in casa da me che è e l'ho fatto con la collagiotto un mese un mese fa ed è ancora elasticissimo e appunto c'è un mese pilla poi questo è l'ultimo slime ed è il più grande che ho fatto io ho fatto anche il video e ve l'ho pubblicato e appunto si è assestato e è diventato bellissimo è appunto il più grande che c'è questo secondo me è uno dei slime belli che c'è ok e appunto ho messo le nuove cettoline che ho commesso ok allora i slime erano questi guardate ok spero che il video vi sia stato vi mando un bacio iscrivetevi commentate e riempite il tastino di caccia ciao 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 Grazie.